Allora Sasa, dove siamo? Siamo al Villaggio di Maggiù. E che stiamo facendo? La Sagra della Salsiccia, vogliamo inquadrare, aspetta. Possiedo. Allora, Loretana, che si sta facendo? In paio di gruppo, ma molta gente anche, mi riesco a mancare. Guardate dove siamo, capo di calcio. Dopo un'attenta panoramica, nessuno può fare niente. Io ho vergogna, caro Sasa, e tu? Io ho tantissima vergogna, mi rendrei a casa nuovo in questo momento. Buc, che dici? Possiedo. Possiedo. Da domani siete signori in busto di notizia in faccia. In questo villaggio ormai non c'è limite a tutto. Oggi così. Che papà, e di augurio le sette del fattino. Basta casare su due misi. Cosa accadrà domani? Restate collegati e lo scopriremo. Facciate. Domani insieme, insieme.